Eccoci qua, perché aspettiamo di combattere, vero Nick? Sì, molto vero! Questa è stata un'introduzione molto particolare e molto nuova praticamente E quindi adesso io, dobbiamo Nick trovare le armi in giro Però aspetta un attimo che mi muto un attimo qua su TS Ovviamente tu non sentirai ciò che ti dico perché devo parlare con i miei amici da casa, non con te quindi Allora ragazzi, io mi sono appena spostato distanza E cos'è che ho intenzione di fare? Ho intenzione di trollare ben bene il mio amico Nick Intanto ho tolto il salto automatico perché mi dava un fastidio assurdo Praticamente gli dico che lui sa che dobbiamo combattere solamente con le spade Ma non sa che io ho tutte ste robe qua invece E infatti adesso vedremo la sua reazione, potrebbe odiarmi per sempre, potrebbe non diventare mai mio amico Però le persone che si aspettano comunque un vero combattimento tipo E allora no, allora no, potete andare via Non state assolutamente qua a guardare questo video Perché allora... Però adesso ritorniamo su e vediamo un attimo cosa dice il nostro amico Allora Nick, la parte finale di questo video sarà veramente magica Perché vedremo un attimo chi vincerà chiaramente, no? Sì, molto chiaramente Eh sì, e quindi tu chiaramente adesso dobbiamo trovarci prima di tutto Quindi tu stai cercando un po' di armi in giro Sì, io sto cercando, ma non sto trovando per il momento niente, sono trovato della carne Ok, la carne è particolare Anche perché poi dopo, cioè comunque, bisogna considerare perché bisogna magari anche recuperare vita, eccetera Soprattutto poi io ti voglio far notare la bellezza di questi pianeti qua che sono magici comunque, no? Pianeti? Ma non sono strutture Strutture, strutture, volevo dire... Mi sono confuso leggermente Chiedo scusa agli amici che ci stanno guardando Ciao amici, come state? Tutto bene? Vi ho dato un bacetto, però in amicizia chiaramente ragazzi Cioè non pensiamo cose strane Ehm... Però praticamente cosa volevo fare? Qua io sto trovando un po' di cosette Beh, in effetti tipo io qua ho trovato armi fighe Come la Grand Diamond Sword of... Ma scusa, io voglio vedere questa spada Perché tipo, quanto... Ebbè Diciamo che corpo a corpo sta qua mica scherza Quindi me la prendo ben bene Cioè che caspita, cioè stiamo scherzando Grand Diamond Ok, questo me lo prendo pure Scusate ma dai, ma c'è non... Cioè il bello... Vabbè, ok, va bene Nick, tu dovresti parlare comunque Stai trovando qualcosa? No, lo so, sì, ho trovato delle armi Io, cioè, secondo me io potrei già iniziare No, subito così Cioè nel senso troviamo... Luttiamo un attimo in giro Troviamo cose, capito? Cioè è importante questa cosa, no? Ah, giusto Ovviamente Perché se non hai le armi giuste Poi muori Sì, 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 esatto Pensa bene anche alla strategia Chiaramente che vorrai utilizzare Perché la strategia è fondamentale Poi alla fine per la vittoria Perché non solo le armi Non solo... Ok, stavo per fare una battuta brutta Ma non la voglio fare Perché non è per YouTube Non solo le armi contano Ma anche, soprattutto La, diciamo... Gittata delle armi Non la gittata, scusami Insomma, è la strategia comunque Che si utilizza per queste armi Comunque prima io, ragazzi, ho detto I pianeti Perché abbiamo iniziato Una nuova serie SCP Bellissima, secondo me Che nessuno ha mai fatto Nessuno non si sono mai visti I pianeti volanti in giro E cose di questo tipo Tipo, insomma, laboratori Oppure SCP che vanno in giro Da fogli, eccetera Quindi vi consiglio caldamente Di vederla se vi piacciono gli SCP Perché è una cosa totalmente nuova Che a noi è piaciuta anche molto Fare E ci sono misteri Molto misteriosi di dentro Non vi dico niente Perché è proprio Ci siamo evoluti ad altri livelli Soprattutto perché sono in vacanza Quindi adesso posso concentrarmi molto su YouTube Comunque parliamo di altro Parliamo di questa cosa Parliamo magari di Nick Che non sta parlando Tipo No, sono delle armi Ma non le trovo E mi spiace Cioè, più che altro le armi ce le ho Ma mi manca l'armatura Che non la trovo E come mai non la trovi? Cioè Eh, non lo so Ma l'armatura soprattutto vale Beh, se trovi qualche pezzettino in giro Dai, potrebbe anche valere Però Se tu hai già l'armatura in nederite Cosa che non c'è in questa versione di Minecraft Ma se ce l'hai Fai schifo un po' Quindi non dovresti prenderla Ma non c'è l'armatura in nederite in questa versione Perciò non la posso avere Giusto, giusto Oppure nemmeno quella in diamante totale Perché sennò poi dopo mi offendo In tante lingue diverse Comunque io ho appena notato che Stavo tenendo degli occhiali stupidi Che sono odiosi Quindi li tolgo malamente Perché li odio totalmente Cioè, quanto li odio? Guardate quanto sono Ah, che cosa è successo? Guardate quanto sono bello ragazzi Cioè Nel senso Secondo me è anche un po' Illegale Perché ho trovato armature Veramente bellissime Che Però chiaramente Nick Tu non potrai prendere Queste armature Solo io le potrò prendere Ma come no? Ma perché? Therston Hall Io intanto esploro anche questo Cosa Wow, che bello Ma che figazzona Cosa ho detto? Non lo so Che figata Cioè, wow Bellissimo Cioè, bellissimo Qua ragazzi Qua possiamo farci una serie Sto scherzando, eh Nick Tu dove sei? Perché io ti sto cercando un po' in giro Sono in una struttura Anch'io Ci sono tanti letti dentro Cioè, al piano di sopra Ci sono tanti letti Non voglio sapere per cosa venivano utilizzati Quei letti No, ma perché? Dai Ma magari qualcuno Vabbè Non dico niente Però praticamente Assoluto Sì, esatto E beh, è un po' cringe Cosa La cosa qua Però praticamente cosa voglio fare? Io voglio trovarti per darti il colpo di grazia in testa Nel senso con la spada chiaramente Con la spada Perché ti devo dare Diciamo Ti devo infliggere danno Affinché tu possa Morire su Minecraft però Su Minecraft ovviamente Sempre su Minecraft Ovviamente su Minecraft Se stiamo giocando a Minecraft Eh, parla forte Che cos'è? Ti sei addormentato Stiamo giocando a Minecraft Scusa Ovvio che su Minecraft E beh, certo No, perché magari poi qualcuno pensa Nella vita reale No, ovviamente Nella vita reale Non si fa Una cosa assolutamente da non fare Anche perché non credo esistano cose Di questo Vabbè, non lo so Boh, caspita ne so Io non ne so niente Quindi Anche perché appunto Non l'ho mai fatto Grazie al cielo Ovviamente Che ci mancherebbe altro Io cerchiamo di evitare Questi temi un po' cringe Allora No, questi anche discorsi qua Perché non ci vanno Molto consoni a YouTube Ma no, tranquillo Tanto Cioè, stiamo dicendo Che non si può fare Quindi È giusto in teoria Ad ogni modo Sì, in pratica Ehm, allora Sì, ma che cos'è Che cos'è quell'armatura Testiamo un attimo La sua capacità cognitiva Nel concentrarsi Non è molto elevata Quanto vedo Però, insomma È molto, ma molto bassa Da quel che si vede Sì, sì, sì Beh, certo Le sue capacità mnemoniche In questo momento Soprattutto non si sa perché Ma sono altrove Sono concentrati Diciamo È concentrato su altre cose Chissà su cosa Non voglio saperlo Mi auguro Su cose Consone giuste E però Praticamente Quali sempre Dovresti concentrarti Nick sul video Su ciò che stiamo dicendo Su ciò che stiamo parlando Perché se no Poi dopo se non rispondi Per 20 secondi La gente dice Ma questo che caccia No, giustamente Poi lo dite anche No, perché c'è Mi immagino di vedere un video Che mi annoierei a morte Se l'altro invece Stanno tutti zitti No Quindi Nick Mi sai se Ok Ci siamo allontanati Giusto? Sì, abbastanza Secondo me Ok, allora Possiamo iniziare Allora, perfetto Bene Ah, sì, sì Scusa Sei Come mai sei così tanto Cosa? In che senso? Cioè, non ho capito Chi ti credi di essere In questo momento Cioè, io boh Non riesce a essere fortissimo Anche se è quell'armatura là Che fa un po' paura Sì, sì Ma è la classica armatura Di Minecraft Chiaramente Forse, boh Magari fa parte Di qualche mod E quindi Se andate Di integrare Con questo mondo Magari li ho trovato In giro un po' così Potrebbe essere Chiaramente Tutto può essere Nella vita Di tutti i giorni Sì, sì Tutto quanto Sì, sì Tutto quanto Ma scusa un attimo Tu dove caspita sei Nick Dentro al palazzo Di prima Non ti vedo Dentro al palazzo Di prima Ma sei ancora Lì sei Ma sei scherzando No, no Ma poi tipo No, perché sono appena Ritornato Ok, quindi Ah, eh Vai via Schifoso Scusa un attimo Non dovrebbe essere Come non hai le frecce Pure tu No No, non le ho prese Sono dimenticato Aia Non lo so però Guarda che è difficile Ah, vai via Schifoso Non ti permettere mai più Ah, muori Basta Vieni qua Immediatamente Vieni qua Madonna Scusami Ma non No 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 Perché non muore Sto qua Ma te non vale Ma con l'arma Mi fai un cuore Eh, dovrebbe essere un cuore Ah, con questa arma qua Ok, va bene Esatto Aiaiaiaiaia Basta Ma porca miseria Perché non muori Ma sei troppo forte Non vale No, non sono forte Ma per te Quelle armi là Io no No Ah, non ho neanche Le frecce per l'arco Eh, vabbè Meglio così Scusami Sì, meglio per te Non per me Ehi, no Fermo Fermo Ma che cacchita di spada hai Oh, tifoso No, no No, no La spada laser Aiaiaia Tuttavia quella spada immediatamente Perché non vale Fai schifo Guardalo Cioè Ma te le armi Ma me è quasi ammazzato Scusami con quella cosa Vai No, fermo 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 Prima di tutto Stai indietro Ok, fermo Allora, prima di tutto Non capisco perché sta succedendo questa cosa Poi non puoi teletrasportarti Allora, porca miseria Sì, sì Vieni, vieni, vieni Forza No, no, no Mi adoro No, no, no No, no, no Allora No, no Allora, perché Io ne vado No, non andartene Vieni qua Ho detto, porca miseria Vieni Forza Non allontanarti No Allora Mi sto Ho paura con quella mela d'oro Eh, lo so Vieni qua Dove sei finito Dai, che noia Devo ucciderti Perché non posso ucciderti Quanti cuori mi hai fatto Quanti? Tre cuori Con due colpi Ah, ok Quindi questa arma È l'arma definitiva Perfetto Sì, sì Allora tu Oh, ma raga Non è normale Sta cosa che non è ancora morto Con le armi Cioè Ho capito che c'è l'armatura Bella Vieni Ma perché hai preso le ender Per stupido Sciocchino Perché io devo scappare Con quelle armi La che ti ritrovi È giusto Però io dovrei Farti fuori Cioè No, no Vieni Devo fare io fuori Adesso Ma io no Veramente raga Cioè non è normale Sta roba Adesso ti devo far fuori Con le armi normali Cioè ci rendiamo conto Di questa cosa Cioè non è normale No, non è normale Se deve ricaricare No Vieni qua Non saltare Poi guarda che nel primo Solo hai qualcosa Che ti si vede strano Allora Mannaggia Praticamente adesso Ti è stato revocato Ma non vale Come non vale Allora prima di tutto ho vinto Sto scherzando eh Non ho vinto Però scusami un attimo Perché Non ho capito Come ti hai fatto a trovare Tutte quelle armature Eh l'ho trovato in questo palazzo qua Ho aperto una cassa E c'erano Eh non dovevi prenderle Perché le hai prese Stupido Perché te avevi un'armatura forte Mi avevi detto Perciò ho detto Per compensare un po' Almeno divento anche io Un po' più forte Cioè meno male Che il video doveva essere Uno scherzo a te E io non te l'avevo nemmeno detto Ah veramente Sì Però dai Alla fine ti ho Ho vinto comunque Quindi bene No non hai vinto Come no Ti ho ammazzato Sì sì Ti ho ammazzato Ti ho ammazzato di nuovo Ma non è vero Non significa niente Quindi ragazzi io ho vinto Ovviamente come al solito E E Nick ha perso come al solito E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao